L'ACDA, l'azienda cuneese dell'acqua, ha organizzato per il 20 maggio una giornata di visite all'impianto di depurazione. Noi ne parliamo con l'amministratore delegato, la dottoressa Manuela Luciano, che è venuta oggi a trovarci in frequenza. Ben trovata. Buongiorno Mariella e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo detto che il 20 maggio c'è questa visita guidata. Vuole farci qualche anticipazione? Come si svolgerà? Sì, allora, l'azienda cuneese dell'acqua ha organizzato per il 20 maggio una visita guidata all'impianto di depurazione di cuneo. Ci saranno tre momenti della giornata, due la mattina alle 9.30, alle 11 e una nel pomeriggio alle 15. La durata della visita sarà indicativamente un'ora e mezza e si svolgerà all'interno dell'impianto di depurazione con un breve passaggio finale, insomma, di una mezz'oretta circa al laboratorio. La visita ovviamente dovrà essere prenotata, sarà accompagnata dai dipendenti che colgo l'occasione per ringraziare per la loro disponibilità e la loro professionalità. Sarà necessario prenotare ai numeri di telefono. Io magari li lascerei così anche se gli ascoltatori volessero partecipare. Certo, assolutamente sì. 0171 32 68 04 e 0171 32 68 29. Perfetto, così almeno chi volesse partecipare sa come mettersi in contatto. Certo, poi in ogni caso ogni eventuale informazione la si potrà trovare sul sito internet dell'azienda www.acda.it. Come nasce, dottoressa Luciano, l'idea di permettere così alla cittadinanza di venire a visitare l'azienda cuneese dell'acqua? L'iniziativa nasce dalla volontà di far conoscere più da vicino a tutti i cittadini il ciclo idrico e in particolare il viaggio che compie l'acqua nel suo ritorno in natura, quindi dal rubinezzo al fiume. Lo scopo della giornata non è solo quello di spiegare il funzionamento dell'impianto di depurazione, insomma, peraltro in piazza che è stato poi recentemente potenziato, che serve non solo il comune di Cuneo ma serve 17 comuni per un complessivo di abitanti di circa 185 mila. Ma lo scopo è soprattutto quello di far conoscere a tutti i cittadini le fasi del processo depurativo, affinché veramente ciascuno di noi si possa rendere conto di quanto è protagonista in questo processo. Il percorso educativo, diciamo così, mi ha rivolto un po' tutte le fasce d'età perché poi in realtà siamo tutti utenti e tutti utilizziamo l'acqua e quindi in qualche modo sia i bambini, sia gli adulti, sia i giovani riteniamo sia un processo importante per tutti. Ed è un'iniziativa pilota nel senso che ce ne sono state altre in passato però poi abbiamo deciso di reinvestire in questo progetto. Speriamo di poter reiterare un po' in base ai riscontri che troveremo da parte dei cittadini. Noi veramente ci auguriamo proprio sinceramente che ci sia una risposta positiva da parte di tutti perché si tratta veramente di un momento riteniamo importante di crescita e di riflessione sull'uso dell'acqua che è un bene primario dell'umanità. Bene, noi ringraziamo l'amministratore delegato dell'azienda cuneese dell'acqua, la dottoressa Manuela Luciano, per essere stata con noi. Grazie, buongiorno.